Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di progetto. Quest'oggi torneremo a programmare una CNN, quindi una rete neurale convoluzionale, però andremo innanzitutto ad allenarla su GPU, quindi vedremo come si fa, e inoltre vedremo un altro metodo appunto per calcolare la dimensione del tensore in uscita dal layer convolutivo e successivamente in entrata al layer lineare. Cambieranno un po' di cose, quindi come prima cosa import torch, poi import torch vision, import torch vision dot transforms as transforms, import torch dot optim as optim, import matplotlib che la utilizzeremo per visualizzare le immagini. Prendiamo pipelot as plt, import numpy as np, import torch dot nn per creare la rete neurale e import torch dot nn dot functional as f grande. Una volta fatte le importazioni andiamo a fare alcune verifiche per quanto riguarda CUDA, quindi facciamo try torch dot CUDA dot init, innanzitutto lo andiamo a inizializzare, con accept print e ci mettiamo ad esempio error during CUDA initialization, initialization slash n e magari mettiamo, questo lo mettiamo a capo con exit exit 1. Successivamente if not torch dot CUDA dot is available, scriviamo print error CUDA not available, quindi ci sono stati errori di installazione, mettiamo ad esempio exit 2, else, scriviamo print CUDA available proceeding. A questo punto dobbiamo andare ad impostare il dispositivo CUDA, ovvero la nostra GPU. per vedere quali GPU sono disponibili in teoria basta fare una print di torch dot CUDA dot e la lista dei dispositivi, ad esempio abbiamo device count per vedere quanti sono disponibili i dispositivi, o altrimenti si potrebbe utilizzare, in teoria device count dovrebbe restituire anche il nome del dispositivo. In ogni modo se avete una sola GPU di solito questa viene identificata come GPU 0, quindi basta scrivere torch.cuda.set device 0. Una volta fatto ciò andiamo a settare alcune variabili, quindi tipo batch size, che sarà la batch size della rete neurale, l'ha imposto ad esempio a 20 e ci salviamo ad esempio path per il percorso dal quale andiamo a caricare il dataset, quindi sarà .cfair.net.pth, cioè cfair underscore net.pth. Successivamente transform sarà uguale a transform.compose e gli passiamo transform.toTensor e poi scriviamo transform.normalize e gli passiamo due tuple, rispettivamente 0,5, 0,5 e 0,5, poi copiamo, virgola e incolliamo. Una volta fatto ciò andiamo a caricare il nostro dataset, quindi scriviamo trainset, ad esempio, è uguale a torchvision.datasets.cfair10, con root che sarà uguale a .slash data, train ovviamente lo mettiamo true, download uguale a true e gli applichiamo la transform, quindi transform uguale a transforms. E poi stessa cosa per il test set, andiamo a cambiare il nome, test, però in questo caso mettiamo train false. Ora scriviamo il train loader che sarà uguale a torch.utils.data.dataloader. A questo dobbiamo passare il train set, dobbiamo passare la batch size che sarà uguale a la nostra macro batch size, shuffle è uguale a true e numworkers è uguale a 2. E shuffle ovviamente va a mischiare un po' il dataset, batch size appunto la finestra di dati, e numworkers sono i thread che vengono allocati per effettuare questo processo. Ora dobbiamo fare la stessa cosa per il test loader, copiamo e incolliamo, lo chiamiamo test, e semplicemente mettiamo shuffle false. Ora andiamo a scrivere le classi di oggetti presenti nel dataset, in questo caso il dataset verrà scaricato e in sostanza è composto da degli oggetti, infatti con questa rete neurale andremo a riconoscere degli oggetti. In particolare ci sono areoplani, quindi plane, car, beard, cat, deer, dog, frog, senza spazi all'interno mi raccomando, horse, ship e truck. Una volta fatto questo ci andiamo a definire una funzione imshow che ci mostra l'immagine, quindi gli passiamo l'immagine e scriviamo img è uguale a img mezzi più 0,5, successivamente np.img è uguale a img.numpy, dobbiamo utilizzare numpy in quanto plt.imshow, gli va passato np.traspose di np.img, 1,2,0. In sostanza piplot va a trattare l'immagine proprio nella sua natura matematica, quindi sotto forma di matrice, per questo bisogna chiamare la funzione numpy. Successivamente andiamo a creare un iterabile, quindi dataiter è uguale a iter di trainloader e semplicemente image e labels saranno uguali a dataiter.next. next si può chiamare anche in questa forma oppure in questa, dato che sono funzioni interne all'interprete di python. Successivamente andiamo a mostrare l'immagine con la nostra funzione, quindi gli passiamo torchvision.utils.makegrid.images, quindi in sostanza la batch size che descrive quante immagini alla volta andiamo a utilizzare per il training e l'andiamo ad utilizzare, cioè questo numero di immagini sarà lo stesso numero di immagini che verrà messo in questa griglia e quindi mostrato tramite la nostra imshow. Ora scriviamo print apici.join, che semplicemente va a fare il join delle stringhe, percentuale 5s che lascia 5 spazi vuoti prima della scrittura di percentuale classes e poi gli va passato come parametro labels dj for j in range batch size. Proviamo ad eseguire il nostro codice, non ha mostrato nulla perché ho dimenticato plt.show. Torniamo ad eseguire il codice e potete vedere appunto che è stata printata l'immagine. In questo caso abbiamo 2, 4, 6, 8, 16, più 4, 20. 20 immagini appunto la nostra batch size. Per migliorare questo output forse ci conviene mettere qualche spazio qui. Andiamo quindi ora a creare la nostra classe per la rete neurale, classe net, che deve ereditare da nn.module. Qui c'è un errore perché non ho messo as nn, quindi ora il problema si è risolto. Andiamo a definire la init, alla quale innanzitutto effettuiamo la chiamata super, per lo stesso motivo che vi ho spiegato nel video precedente, e gli passiamo net e self, dot ovviamente init. Successivamente scriviamo self.conv1, primo layer, è uguale a nn.conv2d di 3,6,5. Come possiamo vedere, 5 è la dimensione del kernel, 6 è la dimensione dei canali in output e 3 è la dimensione dei canali in input. Ora, il nostro problema è che questo layer non deve essere elaborato su CPU, ma su GPU, e quindi dobbiamo aggiungere punto CUDA. A questo punto andiamo a aggiungere una funzione self.pool, una funzione di pooling tramite nn.max.pool2d di 2x2, e anche questa va passata a CUDA. L'obiettivo del pooling, in sostanza, è quello che in realtà ve ne ha parlato anche Alberto durante la spiegazione delle reti neurali convolutive, ma in sostanza è quello di ridurre progressivamente le dimensioni spaziali della rete neurale. E per fare questa operazione, in sostanza, vado ad utilizzare il kernel e preleva il valore più grande presente all'interno del kernel, in quanto appunto stiamo utilizzando la max.pool2d. Un altro aspetto importante è che il livello di pooling opera su ciascuna mappa delle caratteristiche in modo indipendente. Andiamo ora a definire self.conv2, come vi ho detto nel precedente video, poi è indifferente scrivere prima conv1, conv2, pool. Qui si tratta solo di inizializzare i layer. Questo secondo layer sarà di nuovo un layer convolutivo, e le dimensioni saranno ovviamente 6 perché qui la dimensione in output è 6. La dimensione in uscita sarà, ad esempio, 16 e il kernel sempre 5. E lo dobbiamo passare a CUDA. Ora andiamo a definire i layer lineari, quindi self.fc1 che è uguale a nn.linear, dimensione in ingresso per ora sconosciuta e dimensione in uscita, ad esempio, 120. A partire da questa self.fc2 sarà uguale a nn.linear di 120,84 e self.fc3 che vado a modificare ora sarà di dimensione 84 in ingresso, ovviamente, e di 10 in uscita perché noi effettivamente qui abbiamo 10 classi. Andiamo ora a definire il metodo FORWARD, che in realtà dobbiamo semplicemente passargli self e x. E innanzitutto trasformiamo x in x.CUDA, quindi in un tensore che può essere elaborato dalla GPU. Poi x, ovviamente, come prima cosa, è uguale a self.pull di f.relu, utilizziamo funzione di attivazione relu, di self.conv1 e gli passiamo x. E ovviamente anche qui deve essere punto CUDA. Poi stessa cosa, andiamo ad applicare il secondo layer convolutivo, quindi cambiamo soltanto il 2. E poi qui facciamo PRINT di x.shape. E andiamo a vedere effettivamente la dimensione. Qui, ad esempio, mettiamo 16, poi questo 16 dovrà essere moltiplicato per le dimensioni in sostanza di questo layer convolutivo. Quindi andiamo a scrivere qui sotto net è uguale a net, andiamo a istanziarla, e poi scriviamo net.CUDA. Definiamo una funzione di loss, in questo caso criterion è uguale a nn.crossentropy.loss, sempre passata a CUDA, e in sostanza crossentropy.loss calcola la differenza tra le distribuzioni probabilistiche. Vi faccio un esempio. Abbiamo tre classi, per esempio, no? E in questo momento posso passare alla rete neurale un oggetto della classe B. Quindi questo implica che la probabilità che l'oggetto sia A è 0, la probabilità che l'oggetto sia B è 1 e la probabilità che l'oggetto sia C è 0. Ora la mia rete neurale, dopo un po' di previsioni, calcola per un oggetto che l'abbiamo passato la probabilità di A uguale a 0,228, la probabilità che è B è uguale a 0,619, la probabilità che è C uguale a 0,153. Ovviamente molti qui direbbero beh, allora la probabilità di B è quella più alta, quindi l'oggetto si tratta sicuramente, cioè l'oggetto sicuramente è l'oggetto B. Questo in realtà è un grande errore, in quanto sarebbe come lanciare una monetina e sperare di azzeccare la decisione giusta. Ma quindi come si fa a dire quale sia la classe giusta? Si utilizza la cross entropy loss, ad esempio, per calcolare il coefficiente di perdita e quindi questo coefficiente di perdita poi lo si sfrutta per andare ad ottimizzare la nostra rete neurale. In sostanza questa perdita viene calcolata moltiplicando la prima probabilità, quella che era 0,1,0, per, in sostanza è una sommatoria dove si moltiplica la probabilità di quelle che vi ho elencato prima per il logaritmo naturale delle probabilità relative alla previsione. Quindi, ad esempio, sarebbe 0 per ln di 0,228 più 1 per ln di 0,619 più 0 per ln di 0,153 e risulterebbe 0,479 e questo sarebbe il nostro coefficiente di perdita, ad esempio. Questo è quello che fa nn.crossentropy. Successivamente ci serve un optimizer, quindi optimizer è uguale a optim.sgd e gli va passato net.parameters lr0.001 e momentum che è un altro parametro che è uguale a 0,9. La scorsa volta come optimizer abbiamo utilizzato adam. In questo caso utilizziamo sgd per magari notare le differenze. A livello di implementazione innanzitutto dovete sapere che l'ottimizzatore ovviamente sfrutta la pendenza del gradiente per andare ad ottimizzare appunto la rete neurale. SGd non esegue calcoli effettivamente sull'intero dataset ma su un piccolo sottinsieme di dati. Effettuare calcoli sull'intero dataset infatti comporterebbe ridondanza e inefficienza. L'ottimizzatore adam invece include alcuni aspetti di sgd e altri aspetti provenienti da altre tecniche di ottimizzazione delle reti neurali quindi in sostanza è un po' un misto e essenzialmente si basa l'ottimizzazione del gradiente di funzioni stocastiche. Un aspetto abbastanza significativo di Adam è che ogni tanto trova difficoltà nel convergere. Quindi in sostanza oggi andremo a provare sgd e vedremo come se la cava. Andiamo quindi a definire le nostre epochs ad esempio 2 for epoch in epochs in realtà in range altrimenti da errore perché serve l'iterabile. Già che ci siamo qua terminiamo la rete neurale e aggiungiamo i layer lineari sempre con funzione di attivazione relu self fc1 e gli passiamo x sempre passata a cuda copiamo e incolliamo passandogli fc2 e poi x sarà uguale a self punto fc3 di x punto cuda e poi facciamo return x una cosa che mi sono dimenticato è scrivere cuda anche qui altrimenti si verificano dei problemi quindi ora andiamo ad allenare la rete neurale ci salviamo la running loss inizializzata a 0.0 for i virgola data in enumerate di trainloader virgola 0 andiamo andiamo a prendere inputs e labels che saranno uguali a data 0 punto to cuda 2.0 e stessa cosa per data 1 quindi questo è un doppio assegnamento andiamo ad azzerare il gradiente optimizer dot zero grad output sarà uguale a net di inputs loss sarà uguale a criterion e gli passiamo outputs e labels chiamiamo la backward della loss e infine optimizer dot step running loss sarà uguale anzi dobbiamo andargli a sommare loss punto item poi se i mod quindi percentuale 2000 quindi quando vado a eseguire la divisione i diviso 2000 mi risulta 1999 come resto allora scriviamo print di parentesi graffe parentesi graffe parentesi quadre comunque avete capito e loss sarà uguale a parentesi graffe due punti punto due f punto format e gli passiamo epoch più uno i più uno e running loss diviso 2000 una volta fatto ciò running loss la torniamo ad impostare a zero running loss in sostanza durante l'esecuzione del training vedremo che inizierà a diminuire e infatti il nostro modello diventerà sempre più accurato magari ora qui scriviamo ad esempio print train finished senza la c e andiamo a salvare il nostro modello come si fa a salvare un modello torch dot save e poi ad esempio gli passiamo net prima gli passiamo la rete neurale quindi state dict sotto forma di dizionario virgola gli passiamo il percorso dove salvarlo ancora debug scriviamo ad esempio print model saved proviamo ora ad eseguire il nostro codice e in teoria dovrebbe darci errore dovrebbe darci errore durante la fase di training e fermarsi qui a print x shape qui abbiamo un errore perché nella chiamata di cross centro pilos ci vanno le parentesi proviamo a tornare ad eseguire finalmente sono riuscito a risolvere l'errore in sostanza non avevo messo le parentesi qui quindi stavo passando una funzione al primo layer convolutivo invece che un'immagine ora questo errore l'ho voluto io perché in sostanza mi interessava che mi facesse la print di x punto shape se poi qui si genera un errore fa lo stesso ma intanto io qui riesco a vedere le dimensioni appunto che ho in output dal secondo layer convolutivo quindi posso scrivere x uguale a x dot view meno 1 e gli passo 16 per 5 per 5 e a questo punto mettiamo 16 per 5 per 5 anche qui proviamo ora a vedere che cosa succede come avete visto non è stato così difficile trovare l'effettiva dimensione del layer lineare durante appunto la conversione da layer convolutivo a layer lineare questo metodo insomma è abbastanza comodo al primo ciclo genera un errore ti mostra però la dimensione la vai a correggere e appunto riesci subito ad andare ad effettuare il training senza problemi in questo caso appunto avete visto che la loss quel parametro che io ho qui che vado a calcolare ad ogni ciclo del for in sostanza è andata a migliorare dopo la seconda iterazione qui abbiamo fatto solo due epochs ma può migliorare ancora ad esempio andiamo ora a testare quanto è accurato il nostro modello e scriviamo data iter ora è uguale ad iter di test loader image e labels è uguale a data iter dot next come prima successivamente imgs è uguale ad images ricreiamo la rete neurale così vi faccio vedere come si carica il modello che abbiamo salvato e per caricarlo si fa net dot load state dict e gli passiamo torch dot load e il path output sarà uguale a net di image e poi dobbiamo passargli un tensore cuda di solito gli passa un tensore normale e genera problemi quindi scriviamo cuda 2.0 cuda ovviamente è la tipologia di dispositivo 0 e il numero del dispositivo se vi ricordate e qui ci potrebbe essere anche 1 se avete 2 gpu il computer le gpu le conta partendo da 0 1 2 3 a seconda di quante ne avete solitamente scriviamo underscore virgola predicted che sarà uguale a torch punto max di output virgola 1 poi scriviamo print di ad esempio real images che in realtà qui ci vanno le label quelle corrette e poi sotto ci mettiamo la print di quelle predette dalla rete neurale quindi predicted virgola come prima apici punto join e scriviamo percentuale 5s che lascia lo spazio percentuale classis di labels di j for j in range di batch size qui sotto in sostanza è pressoché identico però invece di labels andiamo a prendere ovviamente predicted andiamo quindi a mostrare l'immagine utilizziamo la nostra funzione imshow e gli passiamo torchvision dot utils dot makegrid di imgs andiamo inoltre a calcolare la percentuale di accuratezza relativa a ogni classe quindi ad esempio chiamiamo class correct è uguale a list di zero quindi una lista vuota for i in range 10 perché le classi ovviamente sono 10 e class total ad esempio ovviamente va anche questo inizializzato a zero with torch dot no grad for data in test loader images virgola labels è uguale a data outputs è uguale a net di images underscore virgola predicted è uguale a torch come prima di max outputs virgola 1 c è uguale a predicted di cuda uguale uguale a labels di cuda anzi labels to cuda 2.0 e anche questa va passata a cuda punto squeeze e poi mettiamo un altro cuda che non si sa mai che generi un errore di solito l'errore che genera con cuda ti dice tensor cioè torch float tensor instead of torch dot cuda dot float tensor cioè di solito l'errore è di questo tipo quando non si è fatto bene il casting a tensore cuda poi scriviamo for in range batch size label è uguale a labels di i ovviamente class correct di label più uguale a cdi punto item class total di label più uguale a 1 una volta fatto ciò for i in range 10 ovvero le nostre classi print accuracy off off percentuale 5s due punti percentuale 2d percentuale percentuale e a questo passiamo percentuale di classes di i virgola 100 per perché la probabilità ce la dà tra 0 e 1 quindi moltiplichiamo per 100 class correct di i fratto class total di i una volta scritto tutto ciò mandiamo in esecuzione il nostro codice ovviamente sperando di non aver fatto altri errori ogni tanto ho notato che si blocca quindi va riavviata la rete neurale probabilmente ad eseguirla da terminale su linux questo errore si può evitare però insomma basta riavviare l'esecuzione iniziamo la fase di training come potete vedere qui sono le classi relative alle immagini che ci ha mostrato nell'immagine precedente ora come potete vedere nella prima immagine c'è una rana quindi questa è la classe giusta e questa è quella sulla quale ha effettuato la previsione quindi abbiamo un gatto secondo la nostra rete neurale questa qui sarebbe una barca questo qui sarebbe un camion ed è giusto questo qui per lui è una rana ed è sbagliato questo sarebbe una barca questa sarebbe una macchina e ci ha preso eccetera eccetera ovviamente con due epochs non è che possiamo pretendere tutta sta accuratezza come potete vedere infatti l'accuratezza degli aeroplani è del 50% delle auto del 71% eccetera eccetera vi faccio notare una cosa noi adesso stiamo utilizzando una batch size di 20 se utilizziamo una batch size di 4 cambia l'accuratezza del nostro modello? vediamo come potete vedere il coefficiente di perdita è diminuito di molto vediamo le previsioni la prima secondo lui è il primo è un gatto secondo lui in realtà è una rana secondo un camion e ha detto giusto il terzo per lui è una barca ma in realtà è un camion il quarto è un deer e e ha detto giusto vediamo le percentuali di accuratezza ora l'accuratezza è cambiata abbastanza soprattutto notiamo che il gatto ora lo riconosce molto meglio è peggiorato sul riconoscimento dei cani ad esempio ma comunque sembra essere appena appena migliorato per via del fatto che praticamente quasi tutte le classi hanno un'accuratezza del 50% ora questo è un training con sole 2 epochs naturalmente se ne mettiamo 10.000 va bene che ci può mettere un giorno per finire il training ma otterremmo un'affidabilità del modello molto più alta ovviamente io vi ho proposto questa rete neurale più che altro come esercitazione per vedere come si fa a crearla come si fa a passarla a una GPU e poi ad esempio anche come si fa a salvare un modello e caricarlo ad esempio anche da un'altra parte potreste utilizzare questo modello anche in un altro in un altro codice che fa tutt'altro quindi ragazzi per il video di oggi questo è tutto se vi è piaciuto lasciateci un like se avete qualche domanda da porci scriveteci qui sotto nei commenti seguiteci sui nostri social come Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video ed essere notificati dell'avvenuto caricamento di ogni video e noi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata ciao